ha 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 è finita la benzina adesso andiamo a casa con la palina con questa qua che felice la siamo attaccati facciamo vedere la corrente dell'ada che ci salva sai cosa c'era un sacchetto è successo che non prendeva l'acqua si è scaldato si sente la puzza ce l'ha fatta ce l'ha fatta è ripartita non si raffreddeva il motore si è surriscaldato e si è fermato però adesso si è raffreddato e riparte grande felix anche va bene teo vieni più dietro ah devi abbassare di là sennò non prende acqua vai vai molla vieni più dietro prendi un ramo prendi un ramo vai 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 lì non ce la vanno porca vacca incredibile scoccio l'erica no ma ne temo scoccio l'erica me no non i io no 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 no